Duplice omicidio a Fano, Luca Ricci ha confessato, è stato lui ad uccidere i genitori. Maurizio Gambini, rieletto sindaco in un terzo mandato, che guarda alla provincia di Urbino. Chiuse le elezioni amministrative, cresce il centrodestra in provincia di Pesaro Urbino. Infortuni sul lavoro, in prefettura, tavolo di confronto per attenuare la piaga sociale. Otto concerti fra luglio ed agosto a Gambicce Mare, riparte Turismo in Festa. Buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV, ben ritrovati al nostro spazio informativo serale di Rossini News. Il telegiornale di martedì 25 di giugno, che apriamo con la cronaca e con gli sviluppi del duplice omicidio avvenuto ieri a Fano. Dopo 16 ore di interrogatorio, Luca Ricci ha confessato. È stato lui ad aver ucciso i propri genitori, Giuseppe, lui e Luisa, ed ora è in carcere con l'accusa di omicidio plurimo. Luca Ricci ha confessato. Dopo 16 ore di interrogatorio nel commissariato di Fano, protrattesi fino all'alba, il cinquantenne operaio della Profilglas ha ammesso di essere stato lui ad uccidere i genitori Giuseppe di 75 anni e Luisa di 70 anni. Marito e moglie, pensionati, trovati senza vita lunedì mattina da vigili del fuoco e polizia nella propria abitazione di Via Fanella. Forze dell'ordine che erano state chiamate dallo stesso Luca a fronte di una presunta preoccupazione sull'onda di telefonate senza risposta rivolte ai genitori. Forzata la porta, vigili del fuoco e polizia trovano Giuseppe Ricci con la testa fracassata da un corpo contundente e la moglie Luisa Marconi deceduta con segni di soffocamento. Secondo quanto trapela dalle indagini, l'interrogatorio avrebbe fatto emergere come Luca Ricci, che abita al piano superiore della stessa palazzina, si è sceso in casa dei genitori nella notte per un problema di salute della madre. Una visita che si è trasformata in un litigio per un presunto digniego della stessa madre ad una richiesta dei soldi del figlio, il quale ha una situazione debitoria che da subito è stata elemento sotto la lente delle indagini. Situazione debitoria che già aveva portato alla vendita all'asta dell'abitazione. E qui si sta cercando di fare ulteriore luce sul movente in cui il litigio degenera in uno strangolamento della donna con una cordicella. Dopodiché Luca Ricci prende un martello, entra nella camera del padre e comincia a colpirlo alla testa fino alla morte. Un martello, poi gettato in un pozzetto del giardino e successivamente ritrovato dai vigili del fuoco dopo un'operazione di dragaggio. Consumato il duplice omicidio, Luca Ricci è tornato in casa dove dormiva il figlio di Ciasettenne e il mattino seguente ha dato l'allarme. Dopo la confessione avvenuta attorno alle 4 della notte scorsa, è stato formalizzato l'arresto dal procuratore Maria Letizia Fucci. Ricci è stato trasferito in carcere a Villa Fastigi. L'accusa è di omicidio plurimo con l'aggravante della crudeltà e dei rapporti familiari. Lasciamo la cronaca e passiamo alla politica. Come annunciato ieri, Maurizio Gambini è stato rieletto sindaco di Urbino. Il turno di ballottaggio incorona dunque al terzo mandato il primo cittadino uscente di una Urbino per la prima volta con lo status di capoluogo. Ascoltiamo Maurizio Gambini, intervistato questa mattina dal nostro Teobaldo Bianchini. E' stata una campagna elettorale falsata proprio perché siamo una città capoluogo di provincia ma con chiaramente 14.000 abitanti. Quindi pochi votanti a fronte di tantissimi candidati perché questo grande risultato che io personalmente ma insieme al governo nazionale e regionale abbiamo portato a casa ha dato la possibilità di candidarsi dall'altra parte a 220 candidati solo per dare il numero complessivo. Questo ovviamente al primo turno ha falsato le elezioni perché chiaramente se non fossimo stati capoluogo non ci sarebbe stato bisogno del secondo turno perché ovviamente noi avremmo vinto con una percentuale molto più alta ma questa possibilità ha ampia la democrazia, la rappresentatività. Quindi questo è un dato estremamente positivo. Mi sento bene perché quel progetto che abbiamo iniziato dieci anni fa di liberare la città dall'oppressione di un governo di 70 anni, della stessa parte politica che terrorizzava la gente se non votavano dalla parte giusta, chiaramente noi abbiamo riportato la libertà e io avevo il timore che potesse tornare la cupola del terrore e della paura se non eri dalla parte giusta. Adesso i cittadini sono tutti uguali, abbiamo riconfermato la democrazia e questo è il sentimento che ho. Ma soprattutto ho la consapevolezza di poter portare avanti, continuare questo grande progetto di fare la storia di questo territorio perché Urbino dopo essere diventata capoluogo di provincia, uguale a Pesaro, adesso andiamo avanti per un progetto ancora più importante, quello di creare la provincia di Urbino. E' conto di avere la disponibilità, il dialogo con tutti i comuni del nostro territorio e dell'entroterra perché il circondario di Urbino, che sono circa 35 comuni, possono veramente cambiare la storia di questo territorio e riportare la vita all'interno della nostra provincia per evitare che continuino a emigrare i comuni verso la Romagna perché quello che abbiamo perso nel Montefeltro ha una responsabilità ben precisa che i governi del centro-sinistra della regione non hanno fatto nulla per trattenerli. Noi invece vogliamo un territorio unito e compatto e vogliamo portare i servizi su tutto il territorio. Urbino adesso da capoluogo di provincia lo può fare. Vogliamo portare i servizi che ha la città nel territorio perché vogliamo lavorare insieme, noi non siamo divisivi, siamo inclusivi e invece dall'altra parte è stato professato in campanettorale che noi siamo così, abbiamo messo il tappo alla città. La città è una città libera da quando c'è Gambini, chiaramente non è che sono io da solo, abbiamo una squadra molto ampia di persone serie, capaci, oneste, che vogliono aiutare la città e vogliono dialogare con i cittadini, quindi veramente stamattina ho un sentimento di serenità perché abbiamo riportato serenità in città. Ecco, non c'era, era sparita anche con la campagna elettorale, una campagna elettorale di cinque mesi che hanno denigrato la città come se fosse morta, come se fosse finita, invece la città che verrà, quelli che dicono gli altri che volevano fare, già è arrivata, già è venuta perché stamattina in piazza qui abbiamo tantissime persone, tanti turisti, tanta gente, è una città viva che è ricominciata a crescere, questo è il dato importante. Il 47% non è invece bastato a Federico Scaramucci per invertire il risultato elettorale di Urbino così come non è bastata l'alleanza programmatica con la lista futura di Maria Francesca Crespini. Ascoltiamo anche Scaramucci, intervistato sempre da Teobaldo Bianchini. Battere un sindaco che si candida per la terza volta dopo che oltre 20 anni in comune sapevamo che era una partita difficile, noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo messo tutte le energie perché la città e il territorio lo meritavano e lo meritano ancora. Noi abbiamo visto un fermento incredibile in questi mesi, tantissima partecipazione di giovani che non si era più vista, tantissima partecipazione della gente, della città e del territorio, questo credo che sia il dato più importante, al di là della vittoria o delle sconfitte nella politica è importante ciò che si crea e quello che si è creato è una cosa che è solamente partita, è solamente l'inizio. Noi da oggi inizieremo un'opposizione molto, molto ferma, dura e costruttiva sui temi, sui contenuti per la città e anche, soprattutto, ferma e dura sul metodo. Quel metodo che oggi non è stato sicuramente il fiero all'occhiello di questa amministrazione perché se tante persone si sono volute spendere, si sono messe in gioco, si sono candidate è perché hanno visto una città che li ha coinvolti poco e noi invece continueremo quello che abbiamo appena iniziato. Sicuramente si sta chiudendo un ciclo per l'amministrazione dei Gambini e invece se ne è aperto un altro. È nelle cose, sostanzialmente il fare la storia è questo, cioè sostanzialmente dare un sogno nuovo alla città che in qualche modo si sentiva spenta. Noi siamo molto orgogliosi di quello che è stato fatto, io ringrazio davvero tutti quelli che si sono spesi in questi mesi e non sarà un'energia che andrà persa, ma sarà un'energia che verrà convogliata. Siamo davanti al monumento di Raffaello, questo grande patrimonio che è la città, non può essere disperso e non può vedere un'amministrazione che si occupa solo di buche, di asfalti e di lampioni perché questo è stato fatto in questi dieci anni e quello che è stato raccontato dalle persone. Poi è chiaro che la manutenzione è importante, è chiaro che il lavoretto è importante, è normale che un sindaco ha dei rapporti personali con tante persone che in questi anni ha coltivato perché se non ci fosse stato lui praticamente il centrodestra avrebbe fatto il vuoto, non avrebbe avuto niente e infatti si è visto anche nei risultati dei consiglieri eletti che sono praticamente quasi tutti della lista di Gambini perché lui ha caricato tutto lì lasciando ovviamente il vuoto nel centrodestra, quindi non sarà facile neanche per lui poi dopo gestirla questa cosa in consiglio comunale e con la Giunta. Comunque noi tutto il nostro programma, le cose che abbiamo scritto, le cose che abbiamo detto, le cose che ci sono state riferite, le esigenze, le speranze, i sogni di questi giovani, delle tante donne, delle tante persone, li porteremo avanti in consiglio comunale e fuori dal consiglio comunale nella società, nella comunità dove probabilmente in questi ultimi dieci anni siamo stati meno presenti ma da sei mesi a questa parte siamo stati molto presenti ed è lì che noi ci batteremo, questo è solamente l'inizio. E dunque Urbino rimane al centrodestra in una tornata elettorale che ha visto lo stesso centrodestra conquistare territori come Fano, terza città delle Marche, ma anche come Pergola, Monteporzo, San Costanzo, Macerata Feltra e Pian di Meleto. Ne abbiamo parlato con il consigliere regionale Nicola Baiocchi di Fratelli d'Italia che giudica questa tornata elettorale di saldo quanto mai attivo per questo schieramento. Il ballottaggio consegna un tris di vittoria al centrodestra che trionfa in tutti e tre i comuni chiamati al voto per il secondo turno. Centrodestra che vince ad Osimo, a Recanati e ad Urbino che conferma Gambini al terzo mandato in una città che ora avrà anche lo status di capoluogo. Per la provincia di Pesor Urbino si chiude dunque una tornata elettorale con conferme importanti e riconquiste pesanti per il centrodestra da Fano a Pergola. Per Nicola Baiocchi, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, da questa tornata elettorale il centrodestra esce con un saldo quanto mai attivo. Un ottimo risultato è la conquista di Fano, la terza città delle Marche. Ieri la conquista di Urbino, un comune importantissimo all'interno dello scacchiere provinciale e regionale. Sappiamo tutti l'importanza del comune di Urbino, quindi complimenti al sindaco Gambini un grandissimo risultato al ballottaggio che testimonia l'importanza del radicamento del territorio e del buon governo, ma anche tanti piccoli comuni che nel territorio sono passati al centrodestra come la riconquista di Pergola, di San Costanzo che era governata dalla sinistra praticamente da sempre il macerato a Feltri è il comune dove risiede Alessia Morani, Monteporzio, Pianni Meleto tanti comuni importantissimi nello scacchiere che hanno una rilevanza importantissima sia a livello provinciale che a livello per le prossime regionali. Quindi tanti sindaci nuovi, molti anche giovani che avranno un compito importantissimo quello di gestire il nuovo comune all'interno del novero del centrodestra. Per il centrosinistra Pesaro rimane la roccaforte, ma a dire di Baiocchi il mandato di Biancani parte subito con una dichiarazione reputata infelice a seguito della morte per overdose avvenuta nei giorni scorsi al Parco Miralfiore. Veramente allibito perché pensare di porre allo stesso livello, sullo stesso piano, delle persone che devono essere aiutate ad uscire dalla droga come gli assuntori di droghe, rispetto a coloro che invece sono dei veri e propri venditori di morte come i pusher, mi pare veramente assurdo. Minimizzare tutto, gli spacciatori ci sono perché c'è chi consuma la droga, veramente è un mix di pressapochismo, banalità che non è rispettoso neanche con fronte di questi poveri genitori di questo ragazzo che purtroppo è stato schiavo come tanti magari del mondo della droga. Ecco qui noi dobbiamo essere invece bravi a cercare di aiutare questi ragazzi a uscire dal mondo della droga e cercare di non minimizzare tutto. Questo è un problema che noi ormai sollecitiamo ad oltre dieci anni ma l'amministrazione ha sempre fatto finta di niente perché è più facile far vedere che i problemi non esistono piuttosto che aver voglia di risolverli. Quindi sono veramente molto dispiaciuto di questa dichiarazione, se questa è la partenza di Biancani siamo a posto. E a proposito di Andrea Biancani, quello di oggi ad Ancona è stato l'ultimo consiglio regionale per il neo sindaco di Pesaro che lascia l'amministrazione regionale dopo nove anni. Al suo posto gli subentrerà Renato Claudio Minardi. Biancani ha intanto convocato il primo consiglio comunale di Pesaro del suo mandato per giovedì 27 giugno alle 16. E torniamo alla crona che lo facciamo occupandoci di nuovo di Fano perché c'è stato un blitz all'alba questa mattina il Vittorio Colonna da parte di Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale che con il supporto dell'unità cinofila hanno arrestato quattro persone senza fissa dimora trovate in possesso di sostanze stupefacenti e di strumentazione collegata allo spaccio. L'operazione Lex Convito è stata sollecitata anche da diverse segnalazioni da parte di residenti che nel corso degli ultimi giorni hanno notato movimenti sospetti. Dopo l'intervento sul posto si è ricata la ditta incaricata che ha provveduto a sigillare l'immobile. Altra notizia che riguarda lo spaccio di stupefacenti ma in questo caso interessa Pesaro dove la Questura ha ricostruito un giro di smercio di droga certificando decine di cessioni di stupefacenti su vasta scala che hanno portato all'arresto con misura cautelare di quattro persone. Un contesto in cui ruotano vari personaggi oltre agli indagati ovvero i consumatori che nel tempo avrebbero comprato regolarmente la cocaina fino a quantitativi per oltre 400 euro. Scambi e cessioni che sarebbero avvenute anche in zona campanara dove la droga veniva nascosta tra le sterpaglie. Dopo l'incidente mortale sul lavoro avvenuto a fine maggio alla FAB di Petriano si intensifica il tavolo di confronto sulla sicurezza istituitosi in prefettura che ha riunito con Fartigianato, Confapi, Confindustria e Lega Coppi nel rappresentante delle associazioni di categoria nonché IMSS, INAIL, Ispettorato del Lavoro e Azienda Sanitaria Territoriale. I dati forniti dall'INAIL certificano come i settori più a rischio restano quelli di costruzioni, agricoltura e manifatturiero e la fascia d'età da 50 anni in su è quella soggetta ai maggiori infortuni. Si registra comunque una tendenza in diminuzione di denunce di infortuni del 4,7% mentre in aumento del 4,3% il numero delle denunce per malattia professionale. Questi i dati che canalizzeranno le prossime azioni finalizzate a prevenzione e controllo. A Fano si riaprono i libri di passaggi Festival domani mercoledì 26 giugno al via la dodicesima edizione dell'evento dedicato alla saggistica e alla non fiction che proseguirà fino a domenica 30. Tantissimi gli eventi dalle presentazioni librarie agli incontri con gli autori, dai laboratori per bambini agli spettacoli teatrali. Fra gli ospiti della prima giornata Marco Pesatori, Claudia Parzani, Mauro Canali, Simonetta Fiori, Marco Ravelli, Maria Beatrice Alonzi, Andrea Angelucci, Piero Martín e Antonio Padellaro. Da giovedì 27 giugno torna invece nell'anfiteatro del Parco Miralfiore l'appuntamento con Circo e il Grito per la sesta edizione di Stupor Circus, il festival internazionale di circo contemporaneo promosso dal comune di Pesaro e Amat. 36 appuntamenti per 11 spettacoli con apertura del festival dedicata a cronache circensi in scena nello sciapitò fino al 30 giugno alle ore 21. Giacomo Costantini, considerato uno dei pionieri del circo contemporaneo in Italia, narrerà l'avvento di questo nuovo linguaggio attraverso virtuosismi, magie, musiche dal vivo e atti poetici tratti dai suoi spettacoli. Ad accompagnarlo in pista ci sono il giocogliere Umberto Calambres e l'acrobata aerea Wenda Burnens. CNA Cinema Audiovisivo Marca annuncia che la Movie Factory, società di produzione cinematografica, organizza un casting per ruoli secondari e figurazioni speciali per la realizzazione del lungometraggio Tutto l'Universo per la regia di Matteo Damiani. Si cercano in particolare attori e attrici professioniste, figurazioni speciali combattute, minori per piccolo ruolo combattute, residenti nelle Marche. Il casting si svolgerà sabato a Pesaro dalle 9 alle 18.30 a Palazzo Mazzolari e domenica 30 giugno dalle 14 alle 20 all'hotel Savoy. Le riprese del lungometraggio saranno effettuate tra marzo e maggio 2025 nelle province di Pesaro e di Ancona. Dalla musica al cinema all'aperto fino al teatro dialettale dalle 4 di luglio parte la ricchissima estate di appuntamenti all'Arena BCC di Fano, come ci spiega il consueto organizzatore della rassegna Gino Bartolucci. Quante serate dove ce n'è, come suol dirsi, di tutti i gusti. Abbiamo il cinema all'aperto lunedì, martedì, mercoledì, con Carmine Imparato che gestisce anche il teatro Masetti a Fano. Naturalmente poi abbiamo al giovedì il dialettale, la nostra rassegna dialettale che è condotta dalla FITA, la FITA della Federazione Provinciale delle Compagnie dialettale. Il venerdì abbiamo il nostro gruppo, il Sangostanzo Show, che naturalmente quest'anno ci ha preso un po' di sprovvista perché ci hanno chiesto l'opportunità di fare sei serate, perciò sei venerdì di luglio-agosto. E poi il sabato e la domenica con vari eventi musicali, culturali, dai galimberti, dai nomadi, dai comici, dai cover di Celentano, da cover di Lucio Dalla. Insomma, un programma ricchissimo di serate dove noi siamo così contenti di aver dato a questa città, a questa arena, degli spettacoli secondo me anche molto validi. Da Fano a Gabicemare, ma sempre a partire dal 4 luglio, torna a uno degli eventi musicali tipici dell'estate di Gabic, vale a dire turismo in festa. Il turismo in festa ha raggiunto la decima edizione e rappresenta sia per i turisti che chiedono quanto si svolge le date perché vogliono essere presenti, quindi è diventato un simbolo di questo turismo in festa perché andiamo a Gabicce in quel periodo perché c'è turismo in festa. Per la città è una cosa molto importante perché dà un tono diverso alle manifestazioni di Gabicce perché si svolgono 4 serate a luglio e 4 in agosto ebbene anche tutti i miei colleghi albergatori e quanto tutta la città veramente conta molto su questo evento perché ha preso una posizione molto importante in tutta la città. Direi che questo è l'evento che si aspetta maggiormente sempre e tutti gli anni. La direzione artistica è stata sempre molto attenta, lo sarà anche quest'anno, di presentare un livello musicale di alto rilievo e siamo qui per questa grande attesa, quindi saranno 8 giorni in tutta l'estate, 4 nel mese di luglio e 4 nel mese di agosto di grande intrattenimento musicale. Avremo un tributo a Domenico Modugno con un cantante solo piano, quindi voce e piano in piazza qui del municipio. Abbiamo un tributo a Liga Bue, fortemente richiesto negli anni passati. Riconfermiamo un tributo a Vasco Rossi con Liberi di Sognare, un tributo a Fabrizio D'Andrè, con un gruppo milanese, Lancaster, il cui vocalist peraltro è proprio di Gabice Mare. Riconfermiamo la presenza di Stefano Ligi, lui è un mattatore del palco con le canzoni da Rino Gaetano, Lucio Dalla, la musica d'autore italiana. Poi abbiamo un tributo ai Bee Gees, il gruppo si chiama Tree Gees, è un gruppo che lavora a livello internazionale, Stati Uniti, Germania, sono vent'anni che replicano le canzoni dei Bee Gees, ma hanno anche un loro repertorio di canzoni loro, che peraltro una di queste è diventata anche la colonna sonora di un famoso film americano. Poi abbiamo un gruppo che farà le canzoni degli anni 70-80, Getro Tal, Queen, insomma cerchiamo di accontentare veramente un po' tutti i gusti in queste otto giornate di turismo in festa a Gabice Mare. Questa è un'iniziativa molto importante, promuove il turismo, facilita e collabora con gli albergatori, con le associazioni, con le attività commerciali. È un'iniziativa che è molto utile per Gabice, ma è utile anche per il territorio circostante, perché fa riscoprire anche nuovi borghi, nuove località. E si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News. Prima di salutarci vi ricordiamo però la nostra prima serata, che è in questo martedì 25 di giugno, alle 21.20 è dedicata alla Compagnia delle Opere di Peso Urbino e al suo convegno dedicato a cultura, territorio e imprese, tenutosi nei giorni scorsi all'hotel Charlie. Mentre per quanto riguarda l'informazione su Rossini TV, l'appuntamento è per domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini, la nostra consueta rassina stampa dei quotidiani locali, per l'occasione condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi. Si chiude invece qui l'informazione di Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata con i programmi di Rossini TV.